Musica Bella Waddu, qua è G-Citro E oggi siamo con il terzo episodio credo di Crash Su Crash 2 ovviamente Oggi, veramente stasera perché si Sto registrando questo video La domenica E credo che lo caricherò domani lunedì 25 novembre Novembre Domani 25 25 novembre E vabbè sì ci siamo capiti oppure martedì Allora Faccio questo video proprio flash 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 Perché tra poco viene il mio amico E devo uscire capito cazzo Mi devo sbregare Devo darmi la mossa E allora Il video precedente di Crash Vi avvi Cioè prima di iniziare Il video precedente Allora cammino perché se no questo video veramente non lo finisco Allora Il video precedente di Crash Ha avuto dei problemi In pratica cazzo In pratica Vaffanculo Non è disponibile su questa piattaforma Dell'altro Nemmeno dell'intro Dell'altro Cioè è violazione di copyright Che ci devo fare io Quindi questa cosa veramente mi ha fatto Inbestialire di brutto E quindi raga Vi ripeto Non è colpa mia Io non ci posso fare niente Poi Che volevo dire E niente Ora l'altro Non so come farò Perché Ovviamente non posso fare Che violo sempre il copyright Perché se no veramente Questo canale ve lo chiudono Chissà come sono arrivato a 105 iscritti 104 E quindi Quindi devo vedere come cazzo fare So solo a casa La domenica è il mio giorno preferito Perché sto solo a casa Me la sbarevo di brutto Dovrei portare qualche puttanella Qualche giorno Se mi sente Mamma mia Ammazza Vabbè E niente raga Questo video Più che altro L'ho fatto per questo Per informarvi Di sto fatto Non è che Perché veramente Non ho pochissimo tempo Per fare sto video Lo sto facendo Veramente Di fretta E vabbè Questo è tutto E mo ve lo ripeto Raga Devo vedere l'altro Che altro devo portare Perché Che altro mettere Al video Perché Oh merda Veramente vi volevo dire Anche qualche altra cosa Però non mi ricordo Ah ecco Lo dicevo io Ma si ingasava al piede Raga mi sono scordato Che vi volevo Che più volevo dire Oltre questo Porco diaz Vabbè Il video è finito Ma 74 cassi Io non l'ho visto Sti 74 cassi De merda Mo salvimo Salviamo Ah ecco Cosa vi volevo dire Spero che mi potete Potete aiutare voi Perché veramente Io non so Che cazzo fare Già ho visto su internet Nessuno mi sa dare Una risposta In pratica Mi sono accorto Che io Se voi siete iscritti Al mio canale Io non esco Tra le vostre iscrizioni Come se il mio canale È invisibile Chissà aiutarmi Perché veramente Sto fatto È un difetto enorme Perché Qualcuno può anche Vedere il mio video Il mio canale Tramite i vostri Le vostre iscrizioni Può pensare Oh mi iscrivo a sto gesitro Di merda Può essere che Sciacocchia qualcosa Vabbè E raga Questo era per informar Informarvi Ci vediamo al prossimo video Un saluto da gesitro Mi raccomando Iscrivetevi al canale Anche l'altro mio canale Dove carico le mie song Iscrivete Seguitemi sulla pagina ufficiale Di facebook Sempre in descrizione Ve lo ricordo sempre Cazzo mettete sto cazzo Di like Alla pagina di facebook E vabbè Basta cazzate Ci vediamo alla prossima Un saluto da gesitre All day swag Oh gesitre Un saluto da gesitre All day swag Un saluto da gesitre Un saluto da gesitre